In campo vince la Triestina, ma il Teramo può finalmente tirare un sospiro di sollievo. La formazione del presidente Campitelli, complice agli altri risultati di giornata, conserva quattro punti di vantaggio sulla penultima e terz'ultima posizione ed è in salvo con una giornata d'anticipo. L'anno prossimo disputerà un altro campionato di Serie C. È il giusto epilogo che premia una squadra, una società, una piazza, che pur tra alte e bassi nel corso della stagione hanno meritato di raggiungere l'obiettivo. Festa grande dunque sugli spalti per i 30 coraggiosi sostenitori biancorossi arrivati a Trieste. Peccato per il finale con le espulsioni di Spighi e Lambruschi. Domenica prossima al Bonolis il Teramo riceverà la Ternana. Guardando oltre, i play-off sono ancora possibili per il Diavolo, ma devono verificarsi alcune condizioni. Intanto il Teramo deve battere la squadra Umbra, quindi l'Albino Leffe non deve vincere in casa contro il Vicenza e il Monza deve alzare la Coppa Italia di categoria liberando un posto play-off. Un po' complicato, ma sognare non costa nulla. Biancorossi in formazione tipo, ad eccezione dell'innesto di Spinozzi per Spighi, non al meglio della condizione sulla sponda alla Bardata. Regolarmente in campo gli ex Coletti e Petrella, mentre parte dalla panchina Steffè. Arbitro dell'incontro, Gariglio di Pinerolo. La Tristina passa in vantaggio al primo affondo, dodicesimo, calcio di rigore. Costantino finisce a terra per un presunto contatto con Fiordaliso. L'arbitro non ha dubbi, indicando il dischetto. Vibranti le proteste terramane a Monito Polak. Dal dischetto, Granoce, il bomber del Girono B, segna il diciassettesimo centro stagionale. I biancorossi, qui in maglia scura da trasferta, reagiscono subito. Conclusione di De Grazia. Il portiere respinge come può e poi la palla viene spinta in calcio d'angolo dalla difesa. Dal corner successivo, un brivido in area alla Bardata con la sfera che attraversa tutto lo specchio della porta. Ventiduesimo, altra occasione Teramo. Spinozzi viene anticipato di un soffio in angolo dalla difesa alla Bardata. Teramo costantemente in avanti e al ventottesimo arriva il pari. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Sparacello, prima schiaccia di testa verso il secondo palo, dove c'è appostato Fiordaliso che inzacca. Terzo gol stagionale per il difensore centrale Scuola Torino, classe 99. La Triestina torna a macinare gioco. Trentacinquesimo, conclusione della media distanza di Frascatore. Sfera fuori bersaglio di poco. Al trentottesimo la Triestina torna in vantaggio. Costantino, scattato sul filo del fuorigioco, si invola in area teramana e batte Pacini in uscita. Quarta rete in maglia alla Bardata per la punta di origini abruzzesi. Un minuto dopo, altro pericolo per il Teramo. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, l'ex Petrella di testa va vicino al Tris. Terzo gol che arriva in chiusura di tempo. Brutta palla persa a centrocampo da De Grazia. La sfera viaggia sulla sinistra, quindi arriva tra i piedi di Petrella che dal limite prima colpisce la traversa e poi sulla ribattuta, ma con una difesa teramana ferma mette dentro per il 3-1. L'ex non esulta nel ricordo e nel rispetto delle sei stagioni trascorse in maglia bianco-rossa. Nella ripresa il Teramo prova a raddrizzarla. La sedicesima azione insistita che porta alla conclusione dei 18 metri proietti con palla di poco a lato. Primi cambi del Teramo. Entrano Spighi e Zecca per Spinozzi e Speracello. Trentatresimo. La squadra di Maurizia è ancora vicino al gol con Armeno, il cui tiro a botta sicura viene murato dalla difesa alla Bardata. Poco dopo escono Fjordaliso per Barbuti e De Grazia per Cappa. Finale rovente. Spighi, appena entrato, commette un brutto fallo su Granoce. L'arbitro tira fuori il rosso diretto nella parapiglia. L'alabardato Lambrughi strattona Spighi. Rosso anche per lui. Le due squadre finiscono in dieci la partita. Nel recupero c'è ancora tempo per un gol del Teramo. Conclusione di proietti deviata in porta da un giocatore della Triestina. E poco prima del triplice fischio una rasoiata di Caidi sfiora il pari. Poco male perché domenica prossima, nell'ultima stagionale Bonolis contro la Ternana, sarà comunque festa bianco-rossa. Devo fare i complimenti alla mia squadra per la salvezza Malemani. Abbiamo piaciuto che possiamo parlare di questa salvezza. È un girone molto duro, molto difficile. Mi dispiace, magari facendo un risultato oggi, potevamo sperare qualcosa di meglio. Però è andata così. Forse non siamo neanche pronti per fare la soddisfazione. Ma devo dire che ci venevo soprattutto a fare i complimenti alla squadra, a società, a tutti, perché abbiamo raggiunto la salvezza con le uglie coidenti. Un girone molto difficile in piazze spettacolari. Grazie.